Musica Scade il 15 maggio il termine ultimo per iscriversi alla seconda edizione del premio Estra per lo sport per giornalisti nazionali ma anche toscani e marchigiani della carta stampata di tv e radio del web e blog. Al via il progetto di alternanza scuola lavoro di energicamente ecologia risparmio innovazione e efficientamento, i temi del progetto per gli studenti delle superiori di Arezzo, Prato, Siena, Ancona e Ascoli Piceno. Il Museo di Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato ha un nuovo socio sostenitore, la Multiutilità Energetica Estra, che è entrata anche a far parte del Consiglio di Amministrazione del Museo. Estra, il maggior gruppo energetico dell'Italia centrale, sceglie ancora lo sport e lega il suo nome al Grosseto Calcio, il club bianco-rosso rifondato lo scorso anno che partecipa al campionato di eccellenza toscana. Grazie.